Gli antecedenti nell'opera di Gilardino Chi svolge il mio mestiere, io sono uno psichiatra Ha l'occasione di ascoltare i sogni dei propri amici Capita, gli amici chiamano i propri sogni E io ho la fortuna di annoverare tra i miei amici il maestro Angelo Gilardino Il quale recentemente una mattina mi ha chiamato Mi ha raccontato un sogno che aveva fatto durante la notte E dallo scambio amichevole, informale, in merito a questo sogno È nata la richiesta da parte sua Dovresti mettere queste riflessioni per iscritto E ampliare il ragionamento E siccome a margine di vent'anni d'amicizia Riflettevo da tempo sull'opportunità di dare un contributo Alla comprensione della sua opera Ho deciso di cogliere l'occasione e di sviluppare il tema degli antecedenti Che cosa intendo per antecedenti? Intendo l'accezione con cui lo ha utilizzato Franco Donatoni Nei due volumi pubblicati da Adelphi Nel 70 questo e nel 1980 l'antecedente X Ossia quella costellazione inconscia Da cui proviene la pulsione a tradurre in materia, in gesto artistico Una ragione profondamente intima e difficile da individuare E sicuramente il sogno è quello che si presta meglio E poi da lì ho ampliato il ragionamento In uno scritto di prossima pubblicazione Che cercherò di riassumervi quest'oggi Il sogno prevedeva una scena di allontanamento da Vercelli in treno Treno che di colpo rallentava Fino a sparire, a svanire completamente E lasciare il maestro a piedi Il maestro Girardino deve dunque tornare a Vercelli Ma le risaie e i campi sono invasi dalle acque E quindi ti rimane un lembo di terra Su cui rimane bloccato E da cui vageggia Il ritorno Ascolto il sogno Devo riassumervi dei passaggi necessariamente in pochi minuti Ma per me era chiaro che il sogno fosse quella che in psicoanalisi Si chiama la scena primitiva Cioè che fossero convocati la mamma e il papà Il treno rappresenta il paterno In maniera molto chiara ed evidente Lo troviamo in Melanie Klein L'importanza della trasformazione del simbolo per la formazione dell'io Tra un'identificazione chiara del treno Come riferimento alla figura paterna E allora un treno che svanisce e lascia a piedi Per chi conosce Angelo Girardino e per chi ha letto Io la chitarra e altri incontri E l'evaporazione del padre Scomparso quando il maestro aveva solo 15 anni Se viene meno L'antagonista è tipico Il materno rischia di diventare pervasivo Invadente Impossibile da gestire Non serve più espliciti il simbolo dell'acqua Come riferita al materno La ruttura delle acque nei campi E quindi gli oggetti primitivi Di canalizzazione della pulsione Del desiderio Sono sottratti alla disponibilità Di chi fa il sogno E rimane una lingua di terra Io dicevo certo Questa lingua di terra Simboleggia la malinconia Il desiderio perpetuo Quella malinconia di cui abbiamo sentito parlare Lorenzo Micheli nel primo intervento E dico tu sei l'angelo L'angelo della melancolia Maestro Girardino ha scritto Un lavoro che si chiama Musica per l'angelo della melancolia Che è direttamente ispirato A una delle più famose incisioni di Dürer La melancolia del 1514 Incisione che può diventare simbolo Più ampio per la comprensione poetica Dell'opera Girardiniana Piccola notazione in passaggio Chi ha presente l'incisione Ricorda che la scritta Al di sotto dell'angelo Recita melancolia prima Sappiamo bene che non ci sono Melancolie successive Quindi non è la prima Di una serie di malinconie È una qualificazione della melancolia È la melancolia dell'artista Quella di quell'angelo Dell'artista che desidera Una verità perennemente inattingibile Lo sappiamo perché Dürer Artista colto aveva letto Agrippa di Nettesheim Nella sua filosofia occulta Il quale catalogava i tipi di malinconia E la malinconia prima Il furor saturninus Era quello dell'artista In cui il desiderio Arriva a sopraffare La razionalità E pensavo che questa malinconia Esplicita bene L'opera Girardiniana Tanto per la predestinazione Rispetto al timbro chitarristico Timbro chitarristico Che trova la sua ragione D'essere nell'estinzione È un'actualizzazione Di una perenne assenza Quindi è il simbolo perfetto Della malinconia Quanto poi nella scelta Del linguaggio adottato Da parte di Girardino Il linguaggio modale Spinto nel suo continuum Fino al totale Dodecafonico Che è un linguaggio Che rifiuta Metedi a prodo È un continuo puntare Senza mai giungere Quando ho presentato Questa interpretazione Maestro Girardino Mi ha detto Innanzitutto Ti prego di metterlo per iscritto E diffonderlo Quindi Se mi raccontate un sogno Tranquillo Io non lo vado a raccontare Su un palco Almeno non me lo raccomandiate E di ampliare Il ragionamento E allora Il secondo punto Che trovavo interessante Analizzare Circa la sua poetica Come forma di antecedente Rispetto a tutto quello Che lui ha prodotto È l'idea Di un luogo Di un luogo con un suono Come il luogo In cui abita Una verità Inesprimibile Altrimenti Un luogo Con un suono Un paesaggio In cui abita La verità Mi sembra difficile Da conciliare Con il linguaggio musicale Che di per sé È diacronico Cioè se si sviluppa Nel tempo Non c'è un suono Allora Riflettevo su questo E per associazione Ho pensato A una lettura Cardine Nel percorso Gilardiniano Che è la lettura Della ricerca Del tempo perduto Di Proust E l'analogia Diventa un po' Più chiara Perché in Proust Abbiamo innanzitutto L'identificazione Del paesaggio Come luogo In cui abita Una verità Proust dirà Dovevo pensare Alla parte Di Svan E la parte Di Meseglis Come profondi Giacimenti Del mio Sottosuolo mentale C'è in Proust Poi una volontà Di configurare Il paesaggio Il mondo Irreale Come qualcosa Che è sottratto Al divenire del tempo Nell'ultimo libro Si compie il miracolo Per cui scopriamo Che l'attività artistica Permette Di superare Questo limite Apparentemente Insuperabile Che è lo scorrere Del tempo E poi Proust ci dice Come si fa in musica Perché i sette libri Sono percorsi Trasversalmente Da una musica Immaginaria Che non ci è mai data Per intero La sonata di Panteuia Di cui abbiamo Solo un frammento E il frammento È ripetuto Possessivamente E pensavo Alnesso Tra questo E una di quelle Che sono le matrici Formali Dell'opera girardiniana La ripetizione Ripetizione Che diventa Elemento fondativo Del lavoro Del lavoro esplicitamente Dichiarato All'opera Di Marcel Proust Le beaujura Compré Di cui c'è stata La prima Nel 2019 D'Alessandria In cui tutti I tre movimenti Iniziano Nelle prime battute Con l'iterazione Di una formula Che poi tornerà Più volte Ma si potrebbe Si potrebbero citare Innumerevoli esempi Di questa Necessità formale Di configurare La ripetizione Come elemento Di sottrazione Del tempo Alla musica Fino a privilegiare La forma Passacaglia Che ritorna Più volte Nel suo catalogo Dalla Passacaglia Degli studi Di virtuosità E trascendenza A Santuario Al secondo Dei ritratti italiani Al secondo movimento Del concerto La Casa delle Ombre La Casa delle Ombre Ad Asiliano E la Compré Girardiniana In cui la Passacaglia Arriva a creare Un incipit Interato Di una sola nota Quindi La musica Come paesaggio La predilizione Delle arti figurative L'idea Che esista Una verità Presente Inesprimibile Nei luoghi È sicuramente Un aspetto essenziale Dell'opera Girardiniana Tra l'altro La sua naturale pulsione Per l'arte figurativa Che qua ritroveremo In un altro Dei suoi antecedenti Mi sembra Puntare Ugualmente In questa direzione L'arte figurativa Di suo È Acronica È Sottratta Il tempo Al contrario Della musica E paradossalmente Quando vuole ritrovare Il tempo Ricorre allo stesso Stratagemma La ripetizione La cattedrale Di Rouen Di Monet 31 volte Lo stesso soggetto Per raccontare Il tempo Che passa Oltre al paesaggio Mi sono posto La domanda Di come Si sia rapportato Girardino A degli oggetti Ideali Del suo percorso Formativo Mi sono rifatto La lezione Dello psicanalista Austriaco Heinz Kolt Il quale teorizza Due possibili relazioni Con l'oggetto Idealizzato La cosiddetta Traslazione Speculare E la traslazione Idealizzante Cosa vuol dire? Traslazione Speculare Vuol dire Confrontarsi Con un oggetto Idealizzato Da pari a pari È la grande Colpa Fra virgolette Ormai Assolta Del Girardino Che si rapporta A Segovia In maniera libera In un momento In cui c'era Una sorta di Idolatria Un altro tipo Di traslazione Che veniva compiuta Nei confronti Di Segovia Girardino Ci si rapporta Da pari a pari Ci si rapporta Da pari a pari Al punto che Quando lo omaggerà Scriverà un colloquio Con Andrè Segovia E nel farlo Quindi può Prendere alcune libertà Di sentire Su certe visioni Del repertorio Dell'Ottocento Poter elaborare Una tecnica Chitarristica Che fosse autonoma Dal modello segoviano Ma capendo profondamente Il personaggio Segovia Al punto che poi Alla dipartita Di Segovia Girardino Verrà indicato Come curatore Dei manoscritti inediti Con l'avallo Di Emilia Segovia Quindi Segovia Non l'ha mai visto Come un avversario Che è una Una sorta di etichetta Sbagliata Che è rimasta Sul Gilardino Per anni La si trova ancora In un documento filmato Della RAI Degli anni 90 In cui il giornalista Gli dice L'è l'anti Segovia Gilardino E' imbarazzatissimo Non è vero E perché Gilardino Con gli occhi Correggo Correggo Taglio Impossimativa L'unica possibilità Di trovare soluzioni Forma virginale E traslazione Idealizzante L'oggetto L'oggetto idealizzante L'oggetto idealizzato Nel percorso Gilardiniano E qui vediamo Il ruolo del buon maestro Idealizzato È quello di invitare Quanto prima L'allievo Su un terreno Di scambio paritetico È quello che fa Castelnuovo tedesco Riconosce le qualità Di Gilardino Lo indica come Editore a Bermen Li fa iniziare Una collezione Di musiche nuove Per chitarra E Un passant È il trattamento Che abbiamo avuto La fortuna di ricevere Noi giovani Che abbiamo avuto A che fare con lui Che l'abbiamo sempre Idealizzato E dal quale Abbiamo ricevuto Un trattamento Che ci ha permesso Di allontanarci Dal modello Ecco Questo allontanamento Questo schivare La tendenza A fare quello Che fa L'oggetto idealizzato È riassunto benissimo Nel titolo Del primo capriccio Del primo studio Di virtuosità E trascendenza Il capriccio Sopra la lontananza E questo potrebbe Portarci a Discussioni più ampie Perché Il passato Per ogni artista È un oggetto Idealizzato Rispetto al quale Esistono varie soluzioni Ce n'è stata una Dominante nel novecento Che a me sembra Con gli occhi Dello psicanalista Un egalismo inconscio Cioè l'idea Che il passato Andasse rimosso E ci fosse una sorta Di progresso E sviluppo Da attuare Ne troviamo tracce scritte Schoenberg è morto Il 1968 Urgulese Arriva a considerare Soluzioni Persino tonali Era un peccato capitale Progresso e sviluppo Di Pasolini Il 1973 Facciamo attenzione Progresso e sviluppo Il passato Non va cancellato Il castelnuovo tedesco Rappresenta un'alternativa È più un allontanamento Cioè il passato Vive in un dialogo Ricco Vivo Con il presente E l'individuazione L'originalità Passa per un allontanamento Con il passato Capriccio sopra L'allontananza Ed è la lezione Gilardiniana Dialogo profiguo Con il passato Oggi assisteremo A una premiera Vi invito a vedere Il lascito Di eredità Monteverdiano Che c'è in questa musica Straordinaria Eppure è musica nuova È musica in allontanamento Dal modello E concludo Con il Gilardino Biografo Mi sono chiesto Ma perché Accanto alla sua attività Di compositore Ha avuto la necessità Di recuperare Recuperare alla storia Certi personaggi In particolare Tre Luigi Mozzani Antonio Cosè E Umberto Ravello Concertista Compositore Di Daio Mozzani Antonio Cosè Grandissimo Compositore E Umberto Ravello Pittore Vercellese Forse il massimo Pittore vercellese Che attendeva Un riscatto Ed è stato Gilardino Che l'ha segnato Attraverso la biografia Che ne ha scritto Cosa accomuna Questi tre personaggi Sono tre personaggi Periferici Che cosa intendo Sono tre personaggi Che svolgono La loro opera Lontani dal centro Lontani dal luogo In cui si sta svolgendo La storia Con la S Miuscola In quel momento E questo può essere Considerato segno Di provincialismo Nel peggiore dei casi Allontanamento Ritardo Io credo Che sia la forza Di questi tre personaggi Ci permette Di estendere Il ragionamento Al ruolo della chitarra Che io considero Una periferia Del mondo E lo faccio Sulla scorta Di quello che dice Gilardino Perché prima o poi In consessi del genere Capita sempre la domanda Maestro Ma qual è il ruolo Della chitarra Nel mondo Qual è il ruolo Della chitarra E qual è il suo futuro E capitò una volta A Roma La fatidica domanda E Gilardino Rispose Da un play Senza pensarci Con dei versi Di Dora Marcus La poesia di Montale Nelle occasioni Non so come estremata Sopravvivi Al lago di indifferenza Che è il tuo cuore Forse ti salva Un amuleto Che tiene vicino Alla matita delle labbra Al piumino Alla lima Un topo bianco d'avorio E così esisti E disse La chitarra È quel topo bianco d'avorio Una cosa apparentemente marginale Che dà un senso E un significato A un esistere Altrimenti atroce Basato Sul quotidiano Basato Sulla volgarità Di Burgos Che cita Antonio Cosè Per capire bene La forza della periferia Bisogna pensare Ai danni Che ha fatto Non considerato Nella storia dell'arte Il toscano centrismo Vasariano Per cui ci ha voluto Federico Zeri Per capire Che forse Gli affreschi di Assisi Non erano di Giotto Ma erano di Pietro Cavallini Che anche al di fuori Della Toscana C'erano gli artisti E questo è un concetto Che è diventato chiaro Nella storia dell'arte Soltanto nel 1916 1979 Tardissimo Con un bellissimo saggio Di Enrico Castelnuovo E Carlo Ginzburg Che si chiama Centro e periferia E che è confluito Poi nella storia Dell'arte E in Audi Ecco Il girardino Biografo Il girardino Chitarrista Il girardino Uomo Secondo me Ci ha insegnato Soprattutto questo Che abitare Autenticamente La periferia È una possibilità Di esistenza autentica Vi ringrazio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti